Se ti ricordi bene, hai ETA2 che diceva che quando si arriva, non puoi scoprire. Cosa farai oggi? Penso che sarà perfetto per oggi. Il clima è abbastanza difficile e lungo. Abbiamo una squadra che è abbastanza buona per questo tipo di finito. Siamo pronti per raccogliere. E la squadra è performata in modo in cui si tratta di essere? Siamo qui con due raggiungi e stiamo aspettando la scelta. Oggi è una buona giornata per noi e proviamo il nostro meglio. Juliette, abbiamo trovato alcuni buoni climi sul parco, come pensate? È bello avere una scelta di scelta, credo che è il primo testo dei piedi. Abbiamo già il TT, ma ora è una scelta di scelta, quindi è bello. Credo che sarà una bella finale. Credo che da oggi ci saranno buoni scelta per le GDC classificazioni? Potremmo, perché è abbastanza calma, quindi possiamo aspettare alcune differenze in la scelta. È circa 20-25 minuti, quindi è ancora abbastanza lunga. Ma non c'è alcuna scelta, perché è solo una scelta e il resto è abbastanza facile. Quindi, alcune raggiungi possono vivere abbastanza bene se è solo una scelta. Non ho aspettato grandi, grandi scelta. E quanto riguarda il weather? Come ti senti questa scelta? Non è il mio preferito, ma ho cercato di trainare a casa con il sauna, con il basso, quindi ho preparato così bene. Ho spero che oggi sarà bene. Cecily, hai già avuto questo tipo di uphill finish. Hai già avuto la scelta? Se posso trovare la scelta? Se posso trovare la scelta di oggi? Deve essere bello. È una scelta giornata da qui. E ho sperato alla scelta. Deve essere bello. Come è stato il giro per te e per la squadra? È stato bello. È stato bello. Abbiamo scelto una seconda per la Grace. È stato un po' heartbreakante per aver scelto una seconda. Ma stiamo parlando. E lei ha bisogno di mettere la scelta di oggi. È una scelta che ti piace molto? Oh, sì. Credo che sia bello per la squadra. Credo che sia bello per la squadra. Perché non è super spettato. Ma è fonda come si riceva tutta la squadra. Vuoi il giro per la squadra, perché la squadra si TP si entrava dentro e tratta tutto l'es shouting. È più bello. Quindi, inoltre, bello. È un giusto per la squadra. Buon amuperto. Quattro. Tempo.